Su dieci camere disponibili, sette sono già state prenotate ad Arezzo per il ponte dell'Immacolata, ma si potrebbe andare verso il tutto esaurito nei giorni del weekend. Merito sicuramente della concomitanza tra gli eventi della città del Natale, una gara sportiva di ginnastica che si terrà sabato prossimo. A rivelarlo è un'indagine della ConfCommercio tra gli alberghi fuori e dentro il centro storico. Finora la città del Natale, da sola tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, ha fruttato alle strutture ricettive del centro storico di Arezzo almeno il 15% in più di presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ha dichiarato la vice direttrice della ConfCommercio Aretina, Catiusha Fei. I dati più precisi ci arriveranno ovviamente dagli alberghi, che hanno gestionali adatti a fare il confronto perfino delle richieste di prenotazioni. Gli operatori dei bed and breakfast vanno più di pancia, più difficili, anzi impossibile, fare il conto delle presenze nelle strutture che sfuggono alle statistiche, come gli affitti turistici, spiega la responsabile del turismo di ConfCommercio Laura Lodone. Basti pensare che su Airbnb ci sono ben 311 privati che offrono camere o casi in affitto, il 90% delle quali è in centro storico. Per gli alberghi fuori dal centro storico, gli eventi della città del Natale hanno inciso meno, ma dicono dalla ConfCommercio che qualcosa si sta muovendo. Se il prossimo anno l'organizzazione della città del Natale, dichiara la vice direttrice della ConfCommercio Catiusha Fei, non solo quella del villaggio tirolese potesse partire già dalla fine dell'estate, con lo stesso investimento economico si potrebbero ottenere risultati molto più visibili in città e come minimo raddoppiare l'incremento dei turisti che pernottano. ConfCommercio in conclusione auspica quindi ad una programmazione anticipata degli eventi in modo da poter promuovere il pacchetto natalizio nei tempi giusti per intercettare così il turismo italiano.